Castella, brevetta a ruolo del libero a calcio, con una maglia di colore diverso, si mimetizza fra gli avversari e realizza un gran gol al volo, la cantera di controbalzo, fa valere la legge del più forte, come insegna Roberto Mancini, perché colpire la palla col piatto, quando si può realizzare un gol con il tacco, i chiostrogoti ripassano un po' di scuola guida, agli incroci bisogna sempre dare la precedenza, Questa giornata il partizan degrado gioca sul campo C, ma Anselmo ci regala un gol assolutamente da serie A Grazie a tutti!